Allora abbiamo Omar di Felice, insomma un ultra uomo secondo me Omar Mentalmente sei fortissimo, allora due domande Qual è il segreto di questa tua mentalità vincente e poi quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora la mentalità vincente mi piace definirla più che altro passione ecco è una grande passione che poi ho declinato nell'ultra cycling che mi ha portato insomma a muovere la mia curiosità verso l'esplorazione del mondo in bicicletta rigorosamente in bicicletta Sui prossimi progetti tornerò in Antartida a novembre, questo sicuramente E lì ti seguirò giorno per giorno Lì perché ce ne sarà bisogno, a distanza non ce ne sarà bisogno E niente oggi sono qui per divertirci con le nostre e-bike Per salutare la partenza del giro da una delle coste più belle d'Italia secondo me Quindi ci tengo a dirlo questa cosa E niente divertiamoci Grazie, grazie, bocca al lupo per tutto ciao Grazie Grazie